Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, allora con il video di oggi appunto iniziamo una mini serie di 4 capitoli, uno per roccaforte in cui andremo a analizzare come comportarci insomma con il ragionamento che avremo tra un po' non si sa ancora di preciso quando verranno aggiunte queste nuove roccaforti che arriveranno fino alla fase 25 e insieme appunto ai nuovi livelli cambieranno anche l'affinità dei boss e di conseguenza bisognerà un po' ridisegnare i vari team che normalmente utilizziamo contro la fase 20 quindi l'attuale fase massima è chiaro che ci sono ancora tantissime incognite su come si comporranno le ondate, che caratteristiche avrà il boss se avrà qualche difficoltà extra come alcuni boss della torre sventura per esempio o se semplicemente sarà una versione un po' più difficile, un po' più viva, un po' più resistente, un po' più quello che volete dei boss che già conosciamo ad ogni modo già da ora si può fare qualche speculazione su quali campioni potrebbe valere la pena di sviluppare anche semplicemente in previsione oggi vorrei parlarvi del drago e fin da subito emergono un sacco di problemi forse tra le 4 roccaforti il drago è quello che potrebbe complicarsi un attimino di più perché mentre per tutte le altre è stata scelta un'affinità che comunque strizza un po' l'occhiolino a quelle che sono le strategie già in uso il drago diventa rosso e un sacco di colonne portanti della strategia contro il drago non potranno più essere utilizzate mi viene in mente guardia reale, mi viene in mente tac anche arcimago volendo tirarne fuori uno abbastanza recente scilla, scilla un campione stupendo che troverà parecchia difficoltà nella fase 25 fase di cui non sappiamo assolutamente niente se non il colore che la contraddistingue ovvero la forza, il rosso non sappiamo se avrà gli stessi campioni delle ondate che hanno tutte le altre fasi finora viste visto che appunto l'unica cosa che cambia è soltanto il livello ma la composizione è sempre la stessa e in genere la fase rossa è quella con campioni un pochino più sottotono se vogliamo perché vabbè c'è Manomistica che è strappreso in giro per culato in tutti i commerciali della Plarium c'è Vincolo che è un buon campione, per carità, c'è Strega che non è niente di che i due frantuma ossa ai lati fanno un buon danno in particolare ad aria ma non è che stiamo parlando di campioni mega super iper atomici quindi io sono dell'idea che le ondate verranno cambiate perché così va bene, saranno comunque a livello 350, 360 adesso non ricordo, comunque veramente altissimi fuori da qualsiasi logica a livello di queste ondate tantissimo però restano comunque dei campioni molto molto deboli e molto molto fragili certo magari a quel livello lì diventano delle divinità per carità, in grado di schiantarvi anche di colpi normali però penso, conoscendo la Plarium che magari anche solo per la fase 25 potrebbero tirare fuori qualche ondata veramente fastidiosa e se ci pensate ci sono molti campioni leggendari fastidiosissimi rossi come Candrafono per esempio o anche Prakus, sei convinto di averlo ammazzato e invece no, e invece salta fuori e ti sfonda quindi ce ne sono un sacco di pericolosi ma questo lo scopriremo solo vivendo la strategia per superare le ondate grosso modo è sempre la stessa riduci la difesa, riduci l'attacco controlla se puoi, schianta tutti e passa all'ondata successiva quindi indipendentemente da quello che troveremo il modo per far fuori le ondate è quello è l'unico dubbio, se vogliamo che a me viene in mente ma non è neanche un dubbio, è una certezza raga perché è così che funzionano le varie roccaforti è la resistenza sia delle ondate che del boss perché non per niente serve 220-230 quello che volete di precisione per bucare il livello 20 contro il livello 10 bastava 120-130 anche meno quindi anche nelle roccaforti c'è una progressione verso l'alto della resistenza degli avversari ai nostri debuff e penso che succederà ancora di più nei livelli più alti fino ad arrivare a quello più importante quindi come si fa quale potrebbe essere la resistenza degli avversari ora un buon esempio per quanto mi riguarda potrebbe essere anche banalmente l'attuale torre sventura tosta i livelli più alti della torre sventura tosta richiedono più di 300-350 di precisione da parte dei nostri campioni per essere sicuri che i debuff vengano posizionati e diventa molto molto complicato dare ai nostri campioni tutto quello che gli serve quindi difesa, vita, attacco per chi deve fare danni tasso, danno e poi anche la precisione così alta non è così semplice quindi come si fa? beh la risposta secondo me è la data da Flarium con gli ultimi campioni rilasciati non è un caso a mio modesto parere che siano stati rilasciati un sacco di campioni come Pestilus, come Claude come anche il campione della fusione attuale ovvero Yoshi tutti i campioni che hanno come caratteristica l'abilità di aumentare la precisione di tutto il team del 50% è vero ma è comunque tanto perché viene aumentata la precisione totale di quel campione quindi anche se voi avete che ne so 220 su un determinato campione di precisione boom di colpo avrà quasi 400 no 370 insomma più di 350 ecco quindi tutta quella che serve per fare bene per fare sicuramente molto 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 bene e di bucare appunto anche questi livelli che potenzialmente potrebbero avere livelli di resistenza ingestibili altrimenti e quindi alla luce di questo io e il buon Urcon abbiamo pensato ad un dream team quindi proprio un team fantastico che secondo noi dovrebbe bruciare il livello 25 senza troppi problemi e magari anche con tempi di percorrenza abbastanza validi senza andare poi a scommodare le speedrun tutti i campioni da speedrun e quant'altro a quello gli lasceremo insomma agli addetti lavori ma ci piace l'idea di fantasticare quindi ecco a voi 5 campioni che potrebbero costituire un team dei sogni e iniziamo dal mio preferito Brago Brago secondo me è perfetto intanto ha la possibilità con la sua passiva di sparare sulla difesa tutti quanti fin da subito quindi anche i campioni un po' più fragilini smetteranno di essere fragili già lui si può utilizzare senza problemi e l'ha utilizzato per un bel po' poi l'ho sentito con altri campioni naturalmente ma l'ha utilizzato per un bel po' anche contro il Drago 20 per quanto lui sia dell'affinità sbagliata e non moriva nessuno raga non moriva davvero davvero nessuno ma lui ha la possibilità di tenere la difesa alta a tutto il team per 3 turni ogni 3 turni quindi se è più veloce lui vi garantisce la difesa su a tutto il team per tutta la partita e già soltanto per questo è tantissima roba in più ha anche la possibilità di ridurre l'attacco ad aria di provocare fa molto danno perché ha davvero degli ottimi moltiplicatori poi lui si tende a fare con tantissima difesa perché più difesa ha e più proteggerà anche gli altri e di conseguenza Drago un ottimo campione un baluardo davvero sul quale puoi costruire tutto il resto del team e poi serve un debuffer serve qualcuno che riduca la difesa ad aria quindi perché non affidare questo compito ad un nuovo campione un ottimo nuovo campione Genshin oltre a fare un sacco di danno perché ha dei moltiplicatori rotti ha la possibilità di ridurre la difesa ad aria inoltre prende contatore di turno per qualsiasi cosa faccia quest'uomo quindi usa la sua A2 contatore di turno utilizza la sua A1 contatore di turno fa un peto contatore di turno porta a cena la sua ragazza contatore di turno davvero qualsiasi cosa pensi di fare quest'uomo gli fa guadagnare il contatore questa è una cosa fantastica perché gli permette di prendere molti turni di scalare di conseguenza molto molto rapidamente i cooldown di tutte le sue skill di usarle molto molto spesso e di conseguenza di tenere la difesa dei nostri avversari che siano delle ondate o del boss stesso sempre ultra bassa quindi Genzin penso che sarà rivoluzionario dal Drago 25 e poi è anche un bel campione dai diciamoci non ho questa smorfia un po' così ci sta e poi Septimus che magari prima era una divinità dal ragno lo one shotava ora non si potrà utilizzare più per quel motivo lì visto che il ragno diventerà blu e lui è verde se ci fa un bellissimo colpo debole sarà un ciccionissimo colpo debole ma pur sempre un colpo debole mentre contro il Drago potrebbe essere davvero davvero tantissima roba non lo so se vista la vita del boss del Drago lui è in grado di one shotarlo probabilmente forse sì probabilmente forse no ma la cosa sicura è che con questa skill potrà fargli tantissimo danno proprio che manca tanto tanto così o pochissimo per riuscire a shotarlo in un colpo solo quindi insomma spada sacra di Septimus è ancora una delle skill che fa più danno dell'intero gioco e sicuramente contro il Drago del colore corretto sarà una cosa micidiale torniamo poi dagli ombrandi perché abbiamo già messo dentro Genzin che ha bisogno di precisione come facciamo a dargli tasso e danno e attacco e difesa e tutto quello che gli serve e anche la precisione per bucare una fase così alta e ci pensa il buon amico Yoshi lui ha la possibilità di aumentare precisione e attacco a tutto il team e poi anche di mettere strizza eventualmente sugli avversari anzi strizza reale con debuff davvero davvero molto molto potente in particolare contro l'intelligenza artificiale che è stupida e quindi sprecherà le skill migliori dei campioni e sapete che strizza reale poi li metterà in cooldown quindi davvero davvero tantissima roba per questo particolare ruolo penso che farà la differenza e poi Yoshi penso che si potrà utilizzare tantissimo anche in altre fasi ma ecco forse tutto questo potrebbe farvelo rivalutare quindi magari non si cambiano le build dei campioni non si ribuildano completamente per cercare di dargli più precisione dovendo poi sacrificare altre cose ma semplicemente si butta dentro nel team qualcuno che li rende sufficientemente precisi e Yoshi è uno di questi e infine c'era da sognare in grande perché non farlo Mashald un sacco di danno con la sua skill primaria la possibilità di mettere strizza reale e sanguisuga su tutti quanti così tutto il team avrà la possibilità di curarsi ogni volta che attacca aumenta la velocità aumenta il danno decisivo ha la possibilità di mettersi guarigione continua fa un sacco di cose fa un sacco di danno ne farà ancora di più contro una fase rossa quindi Mashald potrebbe chiudere davvero questo dream team molto molto succulento ma questo si sa era un team dei sogni quindi una cosa non poi così facilmente realizzabile magari qualcuno di voi li ha tutti magari qualcun altro no la maggior parte no neanche io lo devo dire la maggior parte di questi ancora sfugge però questo non significa che non si possa anche pensare a un team un po' più umano magari fatto di epici anziché leggendari e così io e Urcon abbiamo pensato che la buona base di un team è pur sempre la sostenibilità quindi qualcuno che tiene in piedi il team che permette ai nostri alleati di sopravvivere di arrivare vivi e intatti contro il boss e Ursula è perfetta intanto ha la possibilità di ridurre l'attacco ad aria che è ottimo ha la possibilità anche di aumentare l'attacco di tutti gli alleati e anche questo è ottimo visto che tutti potranno fare più danno ha la possibilità di ridurre un po' il contatore di turno sappiamo che è inutile contro il drago ma contro le ondate perché no e ultimo ma non per importanza rianima tutti ma non solo perché ha anche la possibilità di aumentare la difesa e mettere potenziamento su tutti gli alleati per tre turni che è tantissimo è tanto 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 è vero che può farlo ogni cinque turni però basterà farlo un po' velocina per garantire a tutto il team questi buff veramente potenti praticamente sempre quindi Ursula un cannone ho appena finito di svilupparla tra l'altro mi ha permesso di completare la cripta dei confalonieri proprio a mani basse senza nessun tipo di problema in automatico proprio buttandola e quindi grandiosa Ursula e chissà che nel breve termine magari non ve la farò vedere come abbiamo detto serve un debuffer quindi perché non dare questo compito al nostro buon nonnino che non vede l'ora di spaccare tutto quanto Diakono vive di una nuova gioventù e lui fa due lavori in uno visto che riduce la difesa ad aria grandioso ma non solo perché ha anche la possibilità di riempire il contatore di tutto il team di sottrarre il contatore a tutti gli avversari e questa cosa sì che avviene contro le ondate quindi c'è un 30% di guadagno in termini di contatore sulle ondate ma non solo si prende un turno extra quindi può fare questa cosa contemporaneamente quindi in una sola azione se così vogliamo dire pompa il contatore di tutto il team e inoltre riduce anche la difesa ad aria grandioso poi lui avrebbe anche dei buoni moltiplicatori quindi se avete la possibilità di dargli il tasso e danno lui vi fa anche i buchi ottimo davvero Diakono uno dei migliori campioni per questo particolare ruolo in questa fase che sarà appunto rossa se poi vi è andata male l'evocazione a frammenti di Yoshi poco male se vi è uscito Pestilus dalle schegge è grandioso perché fa la stessa cosa e forse anche un pochino meglio lui ha la possibilità di aumentare la precisione a tutto il team e di aumentare anche il danno decisivo ogni tre turni per due turni quindi un po' più performante di Yoshi se va bene lui non controlla naturalmente con questa skill però già soltanto queste due cose sono ottime la possibilità di mettere Sanguisuga potenzialmente due target perché no e inoltre anche la possibilità di mettere Brucch HP tutte cose utili quindi Pestilus secondo me per il nuovo drago sarà tantissima roba serve poi anche qualcuno che fa danno perché comunque le ondate in qualche maniera bisogna ammazzarle e non è che può fare tutto il nonnino Cionorus secondo me è molto interessante questo è un grande se bisogna dirlo perché non l'ho ancora vista in azione però i moltiplicatori ci sono le statistiche anche e quindi questa skill potrebbe bucare davvero inoltre se ammazza qualcuno ed è probabile che succeda si resetterà di conseguenza la utilizzerà molto 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 spesso facendo parecchio danno e io penso che anche grazie a lei le ondate avranno veramente poco da dire serve infine un campione che sia specializzato per il boss quindi che faccia contro il drago stesso in genere il miglior modo per fare molti molti danni al drago è utilizzare il veleno visto che non può essere controllato il suo contatore di turno e lui inevitabilmente prenderà turni su turni e su turni se il boss è avvelenato prendendo turno si beccherà anche un bel po' di danno e quindi eccolo qui lui ha la possibilità di attaccare 4 volte e di mettere sicuro al 100% 4 veleni per 2 turni ogni 3 turni c'è un turno di buco ma è chiaro che se si fa un po' più veloce non dovrebbero esserci particolari problemi io lo utilizzo già contro il drago 20 devo dire è stata una scoperta è davvero ottimo perché comunque questa skill fa molto danno anche la sua skill primaria non è male ma questi 4 veleni entrano tutti quanti e facendolo veloce ma neanche tanto ha la possibilità di riempire tutto il boss di veleni quindi tantissima roba dovrebbe riuscire a farlo anche contro la fase 25 perché non penso che andranno a manipolare la velocità del boss più di tanto penso che quella rimarrà sempre la stessa di sicuro avrà molta molta più vita e di sicuro avrà una resistenza maggiore ma abbiamo già compensato con campioni che alzano la precisione quindi insomma penso che Outar continuerà ad essere un ottimo campione e forse anzi prima era un po' sottovalutato adesso potrebbe essere l'ora di tirarlo fuori dalla cantina tutti i campioni di cui abbiamo discusso stasera sia quelli del dream team che quelli del budget tra grossissime virgolette sono comunque ottimi campioni già ora utilizzabili in qualsiasi contesto già da adesso quindi non considerate uno spreco svilupparli perché comunque vi aiuteranno in tante altre fasi come minimo nella loro cripta e di conseguenza se li avete perché non svilupparli potrebbero già esservi utili e quando uscirà la roccaforte 25 nuova forse potreste essere già pronti chi lo sa come ho detto all'inizio video raga queste sono semplici speculazioni quindi questo video conta fino a un certo punto me ne rendo conto però comunque nell'ottica di pianificare le cose anche a lungo termine questo potrebbe essere davvero davvero molto molto interessante ci sono anche un sacco di menzioni onorevoli però qui vorrei lanciare la palla a voi chi mettereste in un ipotetico dream team o anche in un ipotetico team normale budget chiamatelo come volete per riuscire ad espugnare questa nuova roccaforte che di sicuro sarà molto impegnativa vi aspetto qua sotto nei commenti come al solito vi invito ad iscrivervi al server discord per rimanere sempre aggiornati e per partecipare a questo tipo di argomentazioni praticamente ogni giorno vi invito ad iscrivervi al canale ad accendere la campanella molto molto importante perché se Anakin Skywalker fosse stato iscritto al canale di BradyV Furioso non sarebbe mai passato al lato scuro quindi mi raccomando fatelo anche voi per il vostro bene infine come dico sempre siate furiosi ma rimanete bradipi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti